buongiorno a tutti bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo degli appuntamenti diciamo che docenti personale ata personale anche educativo avranno nei mesi di maggio e giugno 2023 prima domanda quando saranno disponibili gli esiti della mobilità dei docenti del personale educativo e del personale ata allora gli esiti della mobilità docenti di ogni ordine grado saranno disponibili a partita dal 24 maggio 2023 è possibile il reclamo avverso all'esito della mobilità entro i dieci giorni successivi a tale pubblicazione tale reclamo va indirizzato all'ufficio scolastico provinciale di titolarità gli esiti della mobilità del personale educativo sono previsti per il 29 maggio 2023 e gli esiti della mobilità del personale ata sono fissati per il giorno 1 giugno 2023 le date degli esiti della mobilità potrebbero essere oggetto di proroghe ma al momento restano fissate per come previsto nell'ordinanza ministeriale 36 del 2023 domanda numero 2 quali sono le scadenze più importanti per l'esame di stato di secondo ciclo 2022 2023 al momento la prima data importantissima da ricordare è il 15 maggio 2023 date in cui dovranno essere pubblicati i documenti del consiglio di classe delle quinte classi in cui sono riportati i programmi effettivamente svolti in ogni disciplina tra il 31 maggio e l'uno giugno dovrebbero essere pubblicate le commissioni di esame con presidenti e commissari esterni il giorno 19 giugno del 2023 alle ore 8 e 30 è fissata la riunione plenaria e diciamo preliminare dell'esame di stato del secondo ciclo il giorno 21 di giugno alle ore 8 e 30 ci sarà la prova di italiano e il giorno successivo cioè il 22 giugno 2023 alle ore 8 e 30 l'esame della seconda prova che sarà una prova differenziata al secondo l'indirizzo di studi il liceo scientifico per esempio a la matematica domanda numero 3 quando è prevista la pubblicazione delle gradatori 24 mesi e la compilazione dell'allegato g per la scelta delle scuole delle gradatori d'istituto di prima fasciata allora la pubblicazione delle gradatori provinciali 24 mesi che la cui domanda scadrà il 18 di maggio sarà pubblicata verso la fine del mese di giugno parallelamente tra il 15 giugno e il 5 luglio 2023 sarà aperta la finestra telematica su istanze online per compilare l'allegato g per la scelta delle 30 scuole per la prima fasciata delle gradatori d'istituto speriamo che le risposte date in questo video siano diciamo di aiuto ai nostri telespettatori seguiteci nei nostri canali social facebook youtube e nel nostro sito www.tecnascola.it perché vi terremo aggiornati su tutte le novità del mondo scolastico arrivederci e alla prossima puntata ciao